Trasferta sul parquet del fanalino di coda Forlì è quanto riserva il calendario alla Magnoela Campobasso per il 18esimo turno, il terzo del girone di ritorno, nel girone sud della Serie A2 di basket femminile. Al di là però dei 30 punti di differenza in classifica, il coach delle Rosso Blu Mimmo Sabatelli è pronto a tenere le sue sulla corda. Noi dobbiamo pensare a noi, a ogni partita e non all'avversario che abbiamo di fronte. Sicuramente la classifica ci dice che c'è differenza tra noi e loro, questo lo sappiamo, è negabile, però noi dobbiamo tra virgolette sfruttare queste partite per cercare di migliorare quei cali di tensioni che abbiamo durante i match. Quindi queste sono le partite che ci permettono anche, non solo sotto l'aspetto tecnico ma soprattutto sotto quello mentale, di fare dei miglioramenti dove abbiamo ancora dei piccoli problemi. Felice peraltro per quello che è stato l'ulteriore innesto in fase di mercato. Abbiamo preso una giocatrice importante, è innegabile, una giocatrice che non scopriamo noi, quindi siamo contentissimi di averla portata qui a Campobasso, siamo felicissimi dell'entusiasmo che lei ha avuto nell'accettare la nostra proposta e nel venire qui. Una ragazza sicuramente che si è messa subito a disposizione della squadra, del gruppo, che è entrata in punta di piedi perché è entrata in un gruppo già importante, quindi questo fa capire come il valore anche umano della ragazza che abbiamo preso, quindi sicuramente un notevole ingresso per noi. Da parte sua, l'ultima arrivata, Elisa Mancinelli, è entusiasta di essere nel capologo di Regione. Arrivo con molto entusiasmo, sono soddisfatta e felice della scelta che ho fatto. E di essermi aggiunta a questo gruppo che ovviamente aveva già trovato degli equilibri, un gruppo solido e pieno di entusiasmo, quello che porterò anche io. E in prospettiva, al pari delle compagne, guarda l'appuntamento Coppa Italia. Sicuramente cercando di fare il meglio nelle nostre possibilità, non parlo per scaramanzia, però tutti sappiamo quale sarebbe il sogno e l'obiettivo.